Ciao bimbi! Quest'anno non riusciamo ad essere lì nelle vostre classi fisicamente, ma vogliamo comunque raccontarvi una cosa bellissima. Anche quest'anno ci sarà il donacibo. Vi ricordate che cos'è? Alcuni di voi l'hanno sicuramente già fatto negli scorsi anni. È una raccolta di cose buone da mangiare, una raccolta eccezionale. Che cosa dovete fare? Portarci le cose che più vi piacciono, perdonarle a delle famiglie, a dei bimbi come voi che ne hanno bisogno. Porterete tante cose buone che metterete nelle scatole che le vostre maestre metteranno lì per voi. Alla fine della settimana un nostro amico, un nostro amico che aiuta noi nella formica, verrà e le porterà via e le porterà qui nel nostro magazzino. Riempiranno gli scaffali e cosa faremo con tutte queste cose? Le metteremo poi in delle scatole e le porteremo a delle famiglie che hanno tanto bisogno del vostro piccolo aiuto. Vi chiedo una cosa bimbi, a voi cosa piace mangiare la mattina? Cosa piace mangiare a pranzo? Pensate a questa cosa e portate qualcosa di buono anche per gli altri. Ciao!